Spesso basta un pallone per fare felici i bambini e dare loro un momento di svago e socialità, ma quel pallone può diventare molto di più, può essere un mezzo per favorire l'integrazione. Nella parrocchia di Santa Maria di Ricorboli è proprio lo sport a costituire l'occasione perfetta per fare squadra e avvicinare i bambini e i ragazzi del quartiere a chi ha lasciato la sua casa lontano per cercare un futuro migliore. Al via infatti un progetto per andare verso una maggiore inclusione sociale dei minori immigrati non accompagnati. Con un gruppo di associazioni che hanno partecipato a questo progetto, i Babbi Natale che hanno partecipato alle spese, i soci della Copp, l'associazione del Ponte Rosso, stiamo cercando di dare loro appunto una forma di accoglienza che sia fatta attraverso le persone che abitano nel quartiere. Le attività proposte, calcio, basket e pallavolo, non solo vogliono essere un momento di piacere e di sviluppo psicomotorio, ma anche di recupero dell'identità e dell'autonomia e di creazione di solidi legami. Riteniamo che lo sport sia assolutamente una delle cose più importanti per togliere questi ragazzi. Questa parte qui è una piccola cosa che ci è stata chiesta e noi all'interno di un progetto più generale e l'abbiamo accolta molto volentieri perché ovviamente permette un rapporto e quindi un'inclusione anche di ragazzi che hanno evidentemente più difficoltà anche di coloro ai quali assistiamo normalmente.